Ciao tesoro! Ciao mio caro! Pronta? Sempre! Vieni qui allora! Ciao piccioncini, che bella sorpresa! Togliti! Sarò io la regina dello spettacolo! E lui sarà mio! Oh mia cara, ti amo! Ma è ovvio, ora andiamocene via di qui! Sì mia regina! Ma ehi, come hai potuto? Non ci posso credere! Non posso credere che mi abbia fatto una cosa simile! Siamo stati insieme per così tanto tempo e ora... Se n'è andato via con lei! Ehi oh! Oh mio Dio! Cos'è successo? Mi ha lasciata! Ah, lui è... Dammi quella! Ecco cosa gli farò quando lo vedrò! Proprio così! Ma io lo amo ancora! Penso di sapere cosa fare! Tadam! Lascia che ti tiri sul morale! Guarda cosa ho qui! Non è carino eh? Grazie! Sei dolce! Fammi vedere cos'altro ho qui! Oh, ciao! Cosa? Oh oh! Tu devi andare via! Addio! Ma ho un'idea! Vuoi delle caramelle? È cibo per gatti! Non leggi! Eh? Ops! Scusa! Non me ne ero accorto! Su! Via! Non... Cat Noir? Va bene! Ora basta! Ora ci penso io! Prendi! Ora devi colpirlo! Dai! È facile! Ok! Pronta! Mila! E fuoco! L'ho preso proprio in testa! Fantastico! Ottimo lavoro! Ops! Scusami! Ma mi manca ancora! Schiavo! Dove sono i miei snack? Eccoli qui mia regina! Mia regina? Lo adoro! Ne vuoi? No! È tutto per me! Ehi! Cos'ho? Oh! Le mie unghie! È perché ho scavato nella tomba ieri! Ah! Fammi le unghie adesso! Certo mia regina! E fai piano! Sì! Come desideri! Au! Mi stai facendo male! Le mie unghie bruciano! Eh? Ma perché? Cosa? Ma fai sul serio! La gente è pericoloso per i vampiri! E fallo per bene! Sì mia regina! Vedo che sei una tipa difficile! Bene! Allora dovrò fare un trattamento super speciale! Perché ci hai messo così tanto? Ecco! Wow! Sono cose fighe! Non ho ancora finito! Manca ancora una cosa! Ora ho fatto! Eh? Cosa? Pensi ancora a lei? Sei un idiota! Io amo te! Comunque si amostriamo a tutti quanto siamo felici insieme! Che schifo! Non li sopporto! È il momento di agire! Facciamo un piano! Fammi vedere! Fammi vedere! Per favore! E anche la sua foto! Perfetto! Dunque per sconfiggere un vampiro ci serve l'argento! Molto aglio! E naturalmente la luce solare! Luce solare! Capito! Meno teoria e più pratica! Prendi questo aglio! Sarà la tua arma! È della taglia giusta! Concentrati! Ora immagina che io sia lei! Dai! Colpiscimi! Va bene! Difendi! Ti sto arrivando! Mi hai preso! Ora vieni qui! È ora di prendere la medicina! Ben fatto! Ben fatto! Sei pronta! Grazie! Ora ti slego! Forza! Seguimi schiavo! Questa ci starà bene qui sopra! Ma solo se... Tu aiutami ora! Sì mia regina! Bravo ragazzo! Io ora non muoverti! E aspetta fino a quando non metterò la nostra foto in cima! Fantastico! Sì! La nostra foto! Oh! Cos'è? Un topo? Ah! Vieni qui! Ah! Dai! Ti prenderò! Stupido gatto! Non puoi nasconderti! Fermati subito! Ah? Che c'è? Oh! Cos'è? Sputalo fuori! Sì mia regina! Ti amo! Oh! Un topo! Ah? Dov'è finito? Ti troverò! Non sapevo che sarebbe stato così difficile! Ma fa niente! E un ultimo passo! Dovrei passare alla sicurezza! Pronta? Vediamo come ci riuscirai! Sono una professionista! Ma questa volta vorrei farlo alla Matrix! Così da evitare ogni singolo ostacolo sul mio cammino! Vedi? È facile! Ottimo lavoro! Brillante! Dammi il cinque! Oh! Ho dimenticato una cosa! Oh! Au! Oh! Che male! Sei stata molto brava! Come mi annoio! Questi sono per te, mia regina! Dammeli! Grazie! Ne ho ancora degli altri! Eccoti qua! Sei insopportabile! Ma credo di sapere come fare! Guarda! Un puntino rosso! Si sta muovendo! Vedi come va? Veloce! Prendilo! Scapperà via! Oh! Dove? Dove? Ecco! Bravo gazzino! Prendilo! Prendilo! Ti ho preso! Ehi! Fermati! Ti avevo preso! Fermati! Bravo ragazzo! E adesso vieni dalla mamma! Proprio qui! Ecco dove sei! Questa volta non mi sfuggirai! Ora ho perso proprio la pazienza! Non mi limiterò più a osservare! Proviamoli! Sì! Mia regina! Ti amo! Sì sì! Ah? Ma che sono? Ti sei fatto fidanzato o cosa? O l'hai pagato per venire? Sono qui per combattere! Preparati! Hiya! Patetica! Non mi faresti nemmeno solletico! Oh no! Aspetta e vedrai! Dai un'occhiata! Romperò in mille pezzi i tuoi stupidi canini! Ma che dice? Non lo so! E adesso prendi! Ah! Cosa? Oh no! Lui la sta proteggendo! Patetica! Ah! Aspetta! Questo coso l'ho già visto! Ciao tesoro! Ciao mio caro! Pronta? Sì! Allora vieni qui! Esatto! Ladybug! Sei tu! Sì! Sono io! Si ricorda di me! Oh amore mio! Quindi hai rotto l'incantesimo? Bene! Ecco te ne un altro! Wow! No! Che strana sensazione! Oh ti amo! Ah! Cosa? Non ne ho idea! Cosa? Tu! Questo è per te mia regina? Ma vabbè andiamo! Sì 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 mia regina! Beh! Hanno trovato il loro amore! Ah! Il mio telefono! Oh no! È ora di andare a scuola! Mi dispiace tanto! Sono in ritardo per la scuola! Ci vediamo! Aspetta! Ma io! Oh! Un topo! Ha! Dici davvero? Oh sono adorabile! Insomma! Dovrei piacergli così come sono! Sei bella! Dabbi un bacio! Guarda! È proprio una sfigata! Ma a lui piacciono le sirene! Credo che t' abbia bisogno di un makeover! Wow! Bella casa! Ma come farò a trasformarmi in una sirena? Fammi pensare! Dammi il tuo strumento segreto! Devo impostarlo per un makeover! Et voilà! Abbiamo la nostra checklist! Primo, dobbiamo eliminare i brufoli! Accidenti! Ce ne sono tantissimi! Ma ci penso io! Ora aspettiamoci all'opera! Wow! Sta funzionando! Credo che ci siamo! Non ne sono tanto sicura! Vediamo come sono venuta! Wow! Sono bella! Ehi! Non mi aiuti? Ehm! Sembra che abbia funzionato, eh! Ecco la checklist! Rufoli! Fatto! Adesso cosa manca? Ah! Perché mi brude? Ah! Non resisto al prurito! Hm! Quei peli devono sparire! E so esattamente come fare! Questo miele si tornerà utile! Sei pronta? Facciamolo! Pensavo che avrebbe fatto più male! Ragazzi! Come sono liscia! Che schifo questo coso! Ops! Ma fai sul serio? Che buon sapore! E ora cosa c'è? Ok! Dobbiamo procurarti delle squame! Cosa? E come faremo? Sono sicuro che troverò qualcosa! Oh no! Devo andare! Sto arrivando! Torno tra poco, Ladybug! Chi mi ha chiamato? Cosa credi di fare, teppista? Queste sembrano squame! Oh sì! Proprio quello che cercavo! Sono tornato! Ti sono baciato? Le hai trovate! Ovviamente! Adesso però, i filetti queste calze! Ora devo aggiungere qualche colore! Cosa diavolo sta facendo? Oh sì! Sono troppo forte con i makeover! Wow! Mi piace! Perfetto! Prossimo passo, il trucco! Non la mia maschera! Oh ma com'è testarda? Questa è la mia occasione! Sì! Ce l'ho fatta! Ma com'è possibile? Ci sono! Com'è possibile? Ragazza, qual'è il tuo problema? Oh ehi! Ma vuoi la mia maschera? Dovevo solo chiedere! I tuoi occhi! Cosa? Sto così male? So cosa fare! Niente più occhiaie! Che capolavoro! Che capolavoro! Oh! Wow! Sono bellissima! Sei grande! Sì, adesso vediamo cosa c'è ancora! Adesso dobbiamo pensare alle orecchie! Orecchie? Cosa intendi? Beh, intendo che devi mettere in mostra le tue orecchie! Ma non sto bene! Ups! Scusa! Beh, meglio che niente! Ma che facciamo con i miei capelli? Adesso che fai? Ha! Bingo! Che puzza! Devo avvolgerli in questo modo! Wow! Li adoro! Lasciamoli così per qualche ora! Il tempo qui vola! È ora! Di togliermi! Oh sì! I miei capelli sono fighissimi! Wow! Stai benissimo! Ma puzzi un po'! Ma puzzi un po'! Abbiamo tutto il giorno! Come sono pulite! Adesso devo solo limarle un po'! È fatto! Dove sono le mie mani? Ops! Trovate! Ora mettiamo un po' di svalto! Il rosso mi piace un sacco! Beh, del resto sei una cucinella! Te l'avevi dimenticato? Ma certo che no! Che belle unghie! Le adoro! Non abbiamo ancora finito! Ora c'è il reggiseno! Fammi pensare! Come faremo? Ma queste sono due? Chiù le mani dalle mie mutande! Ho un'idea! Mi serve il mio strumento magico! Ti chiederò di farmi un reggiseno! Ecco fatto! Facile, facile! Ora me lo metto! Non guardare! Wow! Ti sta da paura! Allora, che ne pensi? Oh, credo che dobbiamo solo aggiungere queste! E dipingere di rosso! Hai finito? Eh, fatto! Oh, bene! Manca ancora una cosa! Le sirene non hanno i piedi! Oh, ma devo proprio diventare una sirena! È troppo tardi per rinunciare! Ora ti farò una coda! Ok, ti aiuterò anch'io! Ehi tu! A me serve una coda! Un pesce? Un mucchio di alghe? E alcune pietre rosse! Mettiamo tutto insieme e... Shake, 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 shake! Per favore, funziona, funziona! Prendimi una bellissima sirena! Oh, ha funzionato! È solo bellissima! Oh, sì, lo sei! Stai bene? Non lo so! È così che fanno le sirene! Che ne dici di fare un bel tuffo? Ah, mi piace qui! Ehi, SpongeBob! Come sta, Sandy? Adoro essere una sirena! Però non so ancora camminare! Almeno ora sei pronta! Finalmente potrò conquistarlo! Ehi tu! Forza, fai la tua magia! Ma cos'è? Ehi tu! Ti ricordi di me? Sai di pesce! Un bel dolce per il mio amato! Sembrano buoni! Eccet noir! Bene, o la va o la spacca! Spacca! Che figuraccio! Che schifo! A me piace Ladybug! Non conquisterò mai il suo cuore! Cosa? Ladybug? Voglio essere come lei! Ma non so come! Aspetta! Scatola per diventare Ladybug! Bigo! Sono troppo pronta per questo makeover! Wow! Ma quanti strumenti di bellezza! Fantastico! Non mi serve altro! Vediamo! Ok, mi devo fare i capelli, il trucco e... Mi serve un vestito! Che il potere delle forbici sia con me! Comincio tagliandoli! Santi insetti! Adesso sembro mia nonna! Ci deve essere qualcosa nella scatola di bellezza! Forse dovrei pingerli! Mi serve un'altra scatola di bellezza! Aspetta! Mi manca il blu! Ma cosa vedo lì? Che piccolino! Come stai? Oh, non essere arrabbiato! Prenderò solo qualche goccia del tuo inchiostro blu! Grande! Grazie! Ora strofiniamo bene! Ragazzi, guardate le mie mani! Sono tutte blu! Adesso devo solo applicarlo su tutti i miei capelli! Mi sento come un vero parrucchiere! Wow! Cosa? Accidenti! Ma cosa accidenti è questo coso? Ma certo! So cosa farci! Userò questi lacci per decorare i capelli! E ora ho delle bellissime code di cavallo! Cosa? Che schifo! Sono piena di brufoli! Devo rimuoverli! No, è inutile! Ehi, toglimi le tue chele di dosso! Mi fai male! Ho un'idea! Occhio! Accidenti! È dappertutto! Che schifo! Scusatemi! Cosa? Non sono andati via! Ti prego, salvami tu mia scatola bella! Adesivi per Ladybug! Forse posso rimediare! Questi adesivi nasconderanno tutti i brufoli! Incredibile! Adesso aspettiamo, sì! Intanto potete iscrivervi al mio canale di Makeover! Perché ci mette tanto? Oh, non può essere! Ho rotto gli occhiali! Che sbadata! Ah, perfetto! Ma cosa c'è di sbagliato qui? Oh, ho creato una specie di binocolo! Perfetto! Oh, che schifo! È così appiccicoso! Cosa? Quanti peli! Oh, santo cielo! Devo fare qualcosa! Userò queste pinzette! Ok, ci sono! Resisti, ragazza! Quasi! Ce l'ho fatta! Credo che dovrei farmi visitare! Che schifo! Mi dispiace! Le mie orecchie! Sono piene di peli! Ma cosa mi prende? Adesso proverò un trucchetto, sì! Raccoglierà del mozzo con questo cotton fioc! Caspita, fa veramente schifo! Adesso però posso rimuovere tutti i peli! Spero che abbia funzionato! Sembra un lecca-lecca peloso! E sono pulite! Va bene, Ladybug, che cosa manca? Mi serve una maschera! Ma quale mi sta meglio? Forse questa? La sceglierò più tardi! Sì! Questa coda da sirena è così fastidiosa! Che cosa abbiamo qui? Devo trovare qualcosa per la mia nuova creazione! Venite qui, piccole stelle! Mi serve la vostra polvere! Bene! Ci aggiungerò anche dei brillantini rossi! Come luccicano! Ora facciamo un po' di magia! Wow! Fantastico! E il trucco è fatto! Ma mi mancano le labbra! Serve un po' di colore! Che cosa? Il rossetto si è rotto! Ma ho la soluzione! Intanto passerò il rossetto sull'imboccatura della bottiglia! Bene! Ora ci appoggerò sopra le mie labbra! Ottimo lavoro! E adesso? Cosa? Un costume! Ma io sono una sirena! Accidenti! Devo fare qualcosa! Ok, ragazza! Scegli un nuovo stile! Anche no! Non mi sarà mai! Troppo classico! Mi serve qualcosa di tendenza! Ok, scatola di bellezza! Che cos'hai per me? Ma è tutta spazzatura! Non c'è nient'altro? Oh, che schifo! Lo so! È ora di fare shopping! No! Anche no! Non in questo universo! Un vestito da Ladybug! Sì, questo! Vieni dalla mamma! Fantastico! Proviamolo! Mancano solo i pantaloni! Ma non posso metterli con la coda da sirena! Mi servono delle gambe! Non sarò mai come Ladybug! Cosa? Una pozione per le gambe! Grande! Sono salva! Alla salute! Non vedo l'ora di guardare! E? Dove sono le mie gambe? Fammi bere ancora! Controlliamo! Stai scherzando? Che cosa ha questa pozione che non va? Stupida me! Giusto! Devo versarla sulla coda! Forza non deludermi! Funziona! Ho delle gambe vere! Ora posso mettermi i pantaloni! Sono Ladybug! Wow! Adesso sono pronta! Fammi prendere lo yo-yo! Bene bene! Ladybug può mostrarsi in pubblico! Non è abbastanza pulita! Bingo! Ecco il mio trofeo! Preso! Cosa? Ciao piccolo gattino! Stai benissimo, Ladybug! Anche tu! La migliore testa! Wow! Finalmente sono nel Club delle Sirene! Adesso non devo fare i casini! Oh! Ma che cavolo! Cos'è mi uscirà di qui? Non so spiegare sull'acqua! Guarda! Ha le gambe! Upsi! Megan! Oh no! Ehi nerd! Sei in arresto! Cosa? Voglio chiamare il mio avvocato! Stai ferma! Non sbattere le falpebre! Ah ah! Fatto! Non posso rimanere qui! Sì! Lo farai! Le sirene vengono liberate! I nerd rimangono dentro! Non uscirò mai da qui! È solo perché non sono una sirena! Che cosa sento? Ma sento delle gambe! Accipicchia! Ma dove sono finita? Ah ah! Accio! Oh! Credo di aver preso l'influenza! Ops! Ma che cosa ho fatto? Salve signorina! Sono qui per aiutarti a diventare una sirena! Uno specchio magico! Ma cosa devo fare? Guarda in su! In su? Oh! Che strana scatola! Wow! Vuoi un gadget per rimuovere i brufoli! Proviamolo! Sì! Se n'è andato! Ehi! Ma perché ti sei fermato? No! Non romperti adesso! Oh! Stupido gadget! Ma conosco un altro metodo! Che si dice signor granchio? Tu ora sarai il mio assistente personale! Mi aiuterai non è vero? Bene! I tuoi artigli sono fantastici! Oh! Bambini non copiate! Mi prego! Bene! Ha funzionato! E l'ultimo! Sono in ritardo! Addio! Oh! Sul serio? Vabbè! Grazie per il tuo aiuto! Forza dita! Ma che stai facendo? Ehi! Che schifo! Errore! 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 Se l'ho fatta! Questa è la mia occasione! Devo solo prendere un piccolo ornese! Ecco! Ora sono quasi libera! Accidenti! Cosa stai facendo? Le vintetensi sono rotte! Devo inventarmi qualcos'altro! Nel frattempo mi farò le sopracciglia! Accidenti! Come ci dimenti fanno le ragazze? Fatto! Oh! Perché sono così rossa? Ehi tu prigioniero! Ecco il tuo pranzo! Sì! Si mangia! Direttamente dal fondo del mare! Ha ha ha! Buon appetito! Grazie! Che schifo! Non è un cibo per umani! Fammi vedere cosa trovo nella mia scatola di bellezza! Wow! Che meraviglia! Ho un'idea! Ho sempre voluto provare questa tendenza! Facciamolo! Devo solo applicare il colore sopra la rete! Fatto! Ma perché non viene via? Wow! Mi piace! Ora voglio aggiungere qualche accessorio! Sarò carinissima! Userò queste bellissime perle! Non gettare le cose a terra! Che cavolo! E pulizioni! Scusa! Wow! Ma qui non ho ancora finito! Conosco un sacco di modi per ravvivare queste conchiglie! Per prima cosa devo colorarle! Poi metterle sugli occhi! Sì! Che bello! Ehi agente! Cosa c'è che non va? Sembra una sirena! Beh! La faccia va bene! Ma i capelli ancora no! Agente! La prego mi aiuti! Mi faccia uscire di qui! Fermati! Fermati! Ma cos'è quel coso? Ho impegnimento! È la mia occasione di nuovo! Mi spiace agente ma ho bisogno della sua chiave! Sfigato! Fermati! A sala vista! Ma dove sono? Dov'è la nerd? Tu! Salve agente! No, per favore! Non voglio tornare in cella! Dilo tutto al tribunale! Dilo alla vita, signor agente! Sai che mi importa! Perché ho i capelli blu! Come? Accidenti! Ma un mocio in testa o cosa? Ora sembra un barboncino! Ok, forchetta! Solo tu puoi aiutarmi! Che schifo! Dovrei lavare i miei capelli più spesso! Wow! I miei capelli sono incredibili! Come sto bene! Oh no! Perché sono così screpolata? Oh, le mie labbra! So come aiutarti! Che diavolo! Come posso utilizzare questa noce di cocco? In realtà credo di conoscere un trucco! Che forza ragazzi! Ben fatto, mano da ninja! Ehi tu! Ho bisogno del tuo aiuto! Che ne dici di bere qualcosa? Prova quest'acqua di cocco! Datti da fare, tesoro! Sì! Bene così! E ora mescoliamo! Ed ecco un bel balsamo per labbra! Spero tanto che funzioni! Wow! Le mie labbra sono così belle! Devo cambiare questa maglietta! Che noia! Voglio leggere qualcosa! Credo di aver trovato la soluzione al mio problema! Credo sia della mia taglia! Troppo lontano! Aspetta un attimo! Non sono un buon pescatore, ma... Che succede? Che diavolo? Ops! Non si pesca in prigione! Mi dispiace! Immagino che questi siano tuoi! Accidenti! Pensavo di non farcela! Ho ottenuto ciò che mi serviva! Come sono ingegnosa! Addio, brutta maglietta! E benvenuto, top alla moda! Bene! Ma ora mi servono delle decorazioni! Sono troppo brava quando si tratta di creare! Per tutte le meduse, il mio nuovo top è fantastico! Bene! Ora sì che sono una sirena! Guarda giù, tesoro! Cosa? Non ho la coda! Come posso fare? È facile! Una coda da sirena! Ma è piccola! Mettila sotto l'acqua! Ok! Devo farlo, codina! Spero che non ti dispiace a fare un bagno nel water! Accidenti! Wow! Questa è una coda perfetta! Sì! Il mio makeover è finito! Sono una sirena! Agente! Che c'è? Per tutti il robot! Come hai fatto? Può farmi uscire adesso? Puoi andare! Ora sono libera! Grazie, specchio! Addio! Oh, occhio! Spero che si riprenda! Era dimenticata di non avere le gambe! Attenta, signorina! Non è possibile! Chris mi ha invitata a una festa! Adoro essere una sirena! Per iniziare bene la giornata, bisogna fare una buona colazione! Quasi fatto! Che buon profumo! Ma manca ancora qualcosa! Che meraviglia! Oh, sì! Ed ecco gli sprinkles! Ho già l'acquolina in bocca! Complimenti allo chef! Aspetta un attimo! Non ricordo di aver messo questo dentro il waffle! Wow! Rachel sarà in diretta! Solo per sirene! Oh, ma quanto è bella! Devo partecipare anch'io alla sua diretta! Il che significa... Il che significa... Devo diventare una sirena! Oh, sto arrivando, Rachel! Da questa parte! Benvenuta nella mia cameretta! Oh, ciao, Timmy! Non credo proprio! Ok, andiamo! Mi dispiace tanto! Ma ho un piano geniale! E mi servirà questa conchiglia! Diamoci da fare! Vediamo se la via è libera! Wow! E ha funzionato! Qui è tutto a tema, Rachel! È perfetta! È perfetta! Bene! Facciamo... Cos'è questo odore terribile? Qualcuno ha dimenticato di portar via la sfazzatura? La cena è quasi pronta, Timmy! Questo pesco è davvero fresco, Timmy! L'odore viene da qui! Grazie! Ma ti voglio bene! Ma è il mio pesce! Io ho bisogno di tante squame! Ma stai prendendo le squame da un pesce? Vorrei essere come lui! Bene, diamoci dentro! Ti piace quello che vedi? Non esattamente! Quando è stata l'ultima volta che sei andato dal dentista? Non fanno bene? Non tanto! Ma controlliamo la coda! La coda? Ma ho ancora i piedi e puttano! Aspetta un secondo! Credo di avere un'idea! Sei veramente bravo a cantare! Grazie mille! Oh, scusami tanto! Ma ho del lavoro da fare! Sono un genio del crafting! E ora devo darmi da fare! Facciamolo! Adesso vi faccio vedere cosa so creare! Sto facendo delle squame! Ed ecco che la coda prende forma! Aggiungiamo le pinne! Molto bene! Sembra una vera coda da sirena! Ora devo provarla! Questi non mi servono più! Come sto? Sono una sirena? Oh cavolo! Ma che figura! Posso sistemarla con un po' di nastro! O forse molto nastro! Lo userò come se fosse una specie di cintura! Come faccio a sapere quando smettere? E fatto! Una bellissima coda! Sì! Ora sono pronto! Facciamolo! Piano! Cosa? Questo lo devo pubblicare? Esilarante! Puoi entrare! Grazie mille! Prossimo! Fermati! E quella sarebbe una coda da sirena? Non esiste! Vattene! Ma perché? Devo entrare! Non ho tutto il giorno! Io come sto? È quello che pensavo! È così ingiusto! Ma come posso fare? Su! Questa è mia! Ehi! Devo coprirmi! Ho fallito! Ho fallito! Povero ragazzo! Che ne dici di un piccolo aiuto? Cosa? È per me? Che cos'è? Rachel vuole aiutarmi? Ah! Ok! L'operazione vedere Rachel in diretta è ancora in corso! Ma non conciato così! Niente più squabe finte! Ora chi è quel figo che vedo nello specchio? Ah! Stupidi brufoli! Ecco fatto! Com'è soddisfacente! Ah! Oh! Ma mia pelle ha bisogno di essere idratata! E questo è proprio ciò che mi serve! Oh! Che bella sensazione! Così rinfrescante! Ah! Ma perché vi pruse così tanto? Non capisco! Aspetta un attimo! Per cani! Scusa! Perché non usi questa maschera? Contiene estratto di alghe! Grazie! Spero che funzioni! Le alghe e le loro proprietà magiche! Mi ripasserò gli occhi per qualche minuto! Che vita! Vedi Rachel? È tutto per te! Wow! Sono così fortunata! Non con la maschera, ovviamente! Ora ho la pelle super pulita! Ha funzionato proprio bene! Mi piace! Sono contento! Cosa sta succedendo? Ups! Fattene via! Ho l'alito pesante o altro! Da dove viene questo coso? Colpa mia! Immagino sia arrivato il momento di fare qualcosa con questi denti! Sono proprio brutti! Dici sul serio, eh? Ecco, puoi ringraziarmi dopo! Wow! Grazie mille! Ora devo solo masticare! Oh sì! Le mangerò tutte! Wow! Solo alla venta! La mia mascella si sta staccando un po'! Saranno già bianchi? C'è solo un modo per scoprirlo! Oh! Vediamo! Ho masticato un sacco di gomma! Wow! Ma non finisce più! Ecco fatto! È arrivato il momento della verità! Cosa sono tutti quei peli? Posso aiutarti io? Davvero? Oh! Ehi! Ma è per me! Non posso crederci! Un rasoio elettrico? Ma è proprio quello che mi serve! Addio, monociglio! E ora passiamo ai baffi! Facilissimo! Liscio come la pelle di un bambino! Ah! Perfetto! Beh, quasi! Ho la barba sotto le ascelle! Addio! Ma quanti peli hai? Wow! Guarda come sono fico adesso! Cosa ne pensi, Rachel? Hai qualche pelo? Beh, sai... Non sono miei! Prendo questo! Com'è pesante! Cosa c'è qui dentro? Non posso credere ai miei occhi! Quanti colori! E quanti brillantini! Wow! È il mio giorno fortunato! Ok, diamoci dentro! Non mi prenderai mai! Wow! Ora sono cavoli tuoi! Aspetta un attimo! Cos'è questa musica? Ben ritmo! Aspetta un attimo! Tu devi venire alla centrale! Avanti! Ti piace? Aspetta! Non riesco a vedere la tua faccia! Ah! Mi servono gli occhiali! Credo! Ma manca ancora una cosa! Vieni! Vieni! Questi occhiali sono terribili! Questi sono molto più carini! Guarda, Timmy! Wow! Riesco a vedere! Ehi, mi piaccio! Evviva! Ora ti serve solo la coda! Prendi! Cosa? Vieni da ti! Ok! Grazie! Almeno credo! Che cos'è? Non finisce più! Oh oh! Ecco! Una coda tutta mia! Non posso crederci! E mi sta! Manca ancora la parte di sopra! Devo fare qualcosa! Molto meglio! Ehi! Non vedo più niente! Wow! Sono innamorata! Sto venendo a prenderti, Rachel! E questa volta mi faranno entrare! Perché ora sono una sirena! Ciao a tutti! È fantastica! Wow! Com'è bella! Che bel concerto! Mi sono perso qualcosa! Sono qui! Rachel! Chi è quello? Salve! Sono così felice di conoscerti dal vivo! Sì, datevi un bacio! Siete così romantici! È l'unico vero amore di Rachel! Non credo proprio! Cosa? Cosa mi è successo? Devo andarmene! Rachel? Beh, direi che non è andata come previsto! Vabbè! Dove mi trovo? Dove mi trovo? Cosa abbiamo qui? Uno screen? Vediamo cosa può fare! Forse una caccola nell'orecchio? Soluzione per i brufoli? Ah! Ecco cosa serve! Ai! Oh no! Da dove viene questo vulcano? Devo fare un salto! Che schifo! E dai! Grande! Aspetta! Che razza di guscia è quello? Il pesciolino è incastrato in un brufolo super gigante! Tieni duro piccolo mio! Ti salverò! Finalmente! Ehi! Che maleducata! A pensarci bene non è affatto male! I brufoli sono ancora lì! Cos'era? Cos'hai per me? Una conchiglia! Oh wow! Proviamo questi prodotti sui brufoli! Il colore di queste toppe si adatta al tema oceano! Scopriamo presto se funziona davvero o meno! Mi sembra un po' buffo! Oh! Mi formicola così tanto! Oh! Sono ancora brutta! La mia pelle è così secca! Oh! Lo so! Stupiscimi ancora! Che cosa hai lì? Un gadget di bellezza! Oh! Incredibile! Rendiamola ancora più bello con le scintille di scrub marino dei Caraibi! Mettiamole qui! Guardate un po'! Ho un colore splendido! Wow! Ma mi serve della schiuma! Oh! Dovrebbe bastare! Giusto qualche goccia! Ora preparatevi per... Oh! Chi è? Oh! Sono io! Non ho più bisogno di te! Ora strofina delicatamente sulla pelle! Oh! Sento che sciacqua via lo sporco dalla pelle! Oh! È fatta! Oh! Così pulito! Mi sento strana! Oh! È secco e irregolato! Perché le ragazze devono subire tutto questo? Au! Au! Eh... Io! Chiamiamo i rinforzi allora! Oh! Arriva tesoro! C'è qualcosa che posso fare per te! Oh! Piccolo, aiutami a recuperare la pelle! Okidoki! Prenditi che non sa che faccio io il resto! È un po' vicido! Ma fammi rancoli per la pelle! Trenta minuti dopo! Grazie per il tuo duro lavoro, piccola! Non c'è di che, signora mia! Ciao, ciao! Bello! Oh, beh, certo! Renderanno la mia pelle più elastica! Proprio così! Facciamo così! Oh, così rilassante! Più mani, per favore! Sì! Provate questa spa per il viso, ragazzi! Ah, morbido come il sederino di un bambino! Oh no! Gli occhi ho da panda! Oh! Sembra una signora anziana! Oh! Cosa c'è? Ok, ok, lo aprirò! Non sono sicura! Ah, proviamo! Ah, ma non succede niente! Forse... Oh! 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 Finalmente è aperto! Ok! Oh! Oh! Che schifo! Che schifo! Oh! Questo deve andare qui, credo! Esatto! Un altro per l'altro occhio! E questo forse è qui! Perfetto! Ora leggiamo nell'attesa! Ah, interessante! Una bella sfrondatina! Selfie! Ups! È ora di toglierle! Non vedo l'ora di vedere il risultato! Ta-da! Oh, perfetto! Oh, oh! Cos'è? Oh, Dio! Sembro il diavolo! Lo scrigno! Questo è ciò di cui ho bisogno! Mi sto preparando! Oh, santo cielo! Perché sono così pelosa? E ce ne sono altri! Aiutami, tritone! Oh, santo cielo! Quando finirà? Oh! Oh! Finalmente libera dai capelli del diavolo! Che schifo! Oh, Timmy! Il mio principe azzurro! Saremo presti insieme, amore mio! Il mio amore per te è profondo come l'oceano! Oh! Ancora non ci siamo! Ho bisogno di un trucco incantevole per affascinarlo! Meno male che la mamma mi ha insegnato un paio di cose su come monetizzarsi! Per sfuggire agli uomini cattivi! Dare colori tenui che ricordano alcune creature dell'oceano! Applicare delicatamente sulla pelle! Ecco! Ah, bello! Questo look squamoso è molto bello! Oh, ho un'idea! Abbiamo bisogno di qualcosa di diverso! Una texture e un motivo diversi per vari colori! Ecco il blu! E il rosa! Per tutti i miei amici corallo! Wow, mi piace! Ehi, attenta! Forse vuoi qualcosa da bere? Oh, tu! Certo, prendo da bere! Serviti pure! Grazie! Oh! Aspetta un attimo! Questo è un ottimo trucchetto, credo! Spero che le mie labbra siano rosse come ciliegie! Ah, esattamente quello che mi aspettavo! Alghe! Non posso credere di essere così disgustosa! È quello che mi serve! Oh, è un po' intimidatorio! Attenzione! Wow, non me lo aspettavo! Una piccola perla bianca! Perfetto per gli accessori! Oh, piccole perle e piccoli fiori! Innondami con la tua bellezza! Alcuni incantesi mi fanno miracoli! Oh, wow! Aspetta! Le mie mani! Dimmi che non è vero! Devo fare qualcosa! Scrigno, aiuto! Grande! Sai sempre cosa mi serve! Ok, proviamo prima questo! Chi non ha bisogno di un bel trattamento spa per le mani? Fatto! Pulite e fresche! Tanto anemone! Non abbiamo ancora finito! Spero che funzioni! Vedremo! Un guanto! Interessante! Sembra un impacco freddo per le mani! Ed ecco svelato! Wow! È ancora meglio di quanto avessi mai sognato! Eh? Che cos'è la conchiglia? Dei cattivi stanno cercando di catturarmi di nuovo! Incredibile! Aspetta! È ora di un altro incantesimo! Soffice cotone idrofilo! Boom! Ahah! Wow! Bel top! Ho bisogno di una firma del mare profondo! Sì! Certo che devo indossare le conchiglie! Wow! Sono così orgogliosa di me! Oh! Per favore! In nome del tritone che roba è? È terribile! Spero che questa cosa possa risolvere il problema! Oh! Spolverino di fiume in soccorso! Una sola passata e sono spariti! Impressionante! Oh! Glitte! E se io... Facciamo piovere i brillantini su di me! Ci siamo quasi! Oh sì! Glitter non sbagliano mai! Ora l'ultimo tocco! Sono pronta! Grazie, scrigno! Ora, dov'è la mia ricina? Una conchiglia! Mi sembra di sentire qualcosa! Viene da qui! Wow! Ti muove! Ciao! Cosa? Legend? Ehi, Timmy! Wow! Sei diversa! Davvero? Sto cercando una regina, quindi... Che ne dici? Sì! Perfetto! No! Sandy è la migliore! È l'unica e sola regina sirena di tutti gli abissi marini! Oggi la mia coda di sirena è spettacolare! Sto troppo bene! Fermatevi! Basta! Datemi l'asciugamano! Ok, ok! Sono fradicia! Oh, che schifo! Anche lei è una sirena! Qualcuno pulirà! Oh, è fradicia! Non adesso! Sei proprio come me! Sì, sono una sirena! Ma io sono carina! Britney, anche tu sei una sirena! No! Sono io l'unica sirena! Lei è solo un pesce! Aspetta! Diciamo che sono più un pesce fuor d'acqua! Mi devo tirare su! Devo asciugarmi in qualche modo! Ci vorrà un'eternità! Così non va bene! Strofina, strofina! Ehi! Spero che tu funzioni! Sì, missione compiuta! Evviva! Scusami per prima, Britney! Facciamo pace? Forse non è così cattiva! Qualcosa non va! Ma cos'è? Facciamo un piccolo test! Sì! Lo immergerò nell'acqua! Cosa? Sei brutta? Perché è così cattiva con me? Così si impara! Non me l'aspettavo da te, Savvy! Britney è una brava ragazza! Cosa preferisci lei a me? Devo diventare bella! Mi so esattamente come fare! Sì! Non è un bel vedere! Oh! Aspetta! Ma questa è una perla! Oh! Wow! Li scoppierò tutti! Chi avrebbe mai detto che avrebbero nascosto un vero tesoro? Cosa ci faccio con queste? Aspetta! Lo so! Una collana! Proprio come quella di Savvy! Che succede? Oh! Wow! Troppo figo! Ciao, Pete! Wow, Britney! Sei cambiata così tanto! Oh! È solo la collana! Oh! Sei così bella! Oh! Devo fare qualcosa! Sì, tu andrai qui! E non muoverti! Oh! Ciao, Savvy! Ciao! Oh! 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 La mia gonna si è bagnata! Oh! Ora diventerai un pesciolino! Oh! Oh! Dei pantaloncini impermeabili! Oh! Wow! Penso di essermi innamorato! Ragazzi! È ora di controllare i progetti! Per tutti i mari! Oh! Ehi! Puoi aiutarmi con il progetto? Eh! Ah! No, Savvy! Hai avuto tutta la settimana per farlo! Oh! 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 Mi dispiace! Oh! Sono di nuovo una sirena! Ehi! Ehi! Tu? Non sei qualizzato la mia bellezza? Dammi il tuo progetto! Oh! Eccoti qua, Savvy! Grazie! E ora vediamo se funziona! Preparati! E... Go! Oh! Savvy! Brava! Otto più! Oh! Ottimo lavoro, Savvy! Oh! Io non ho portato il mio! Savvy, potresti farmi un favore? Grazie! Oh! Cattiva! Che belle conchiglie! Mettiamoci al lavoro! Britney, il tuo progetto è pronto? Sì! Ecco! Bip! Ruota, piccolo delfino! Ruota, piccolo delfino! Oh! Britney, ma è incredibile! Rotto più più! Oh sì! Oh! Io ti... Su e giù! Ehi, Savvy! Vieni alla festa? Ma certo! Oh! Ehi, Pete! Vuoi venire alla festa con me? In realtà, Savvy, voglio andare con qualcun altro! Ehi! Ehi! Cosa? Oh! Ah! È vuoto! Oh! Oh! Posso aiutarti io? Non preoccuparti! Farò una piccola magia! H2O in arrivo! Vedi? Wow! Grazie! Fa così caldo! Britney, stai bene? Oh! Tutto bene! L'ho fatto a botta! Wow, Britney! Grazie! Oh! Ora gli faccio vedere io! Wow! Essere una serena è così figo! Cosa? Cosa sta accadendo? Fermati! Oh! Pete, aspetta! Stavo solo cercando di aiutare! Britney! Ora, Britney, me la pagherai! L'oroscopo dice che il pesci va alla grande! Oh! Oh! Una piccola lumaca! Ti chiamerò Fluffy! Ehi, Britney! Mi puoi aiutare? Ciao, Pete! Che succede? Che carina! Mi aiuteresti per questo? Sì! Stai fermo! Fluffy ti aiuterà! Ma che fai? Ma perché? Chi c'è? È solo una lumaca! Ti ha aiutato col brufolo! Aspetta! Ma non c'è più? Wow! Grazie, Britney! Ancora con lui? Sì, fatti! La pagherai! Domani! Adoro questo vestito! Che bella giornata! Oh, bel vestito, Britney! Oh, grazie mille! Questo vestito di mia nonna è molto speciale per la nostra famiglia! Sì, sì! Continua a parlare! Sì, questo è quello che intendo! Ciao, Britney! Ciao! È così carina oggi! Oh, no! No, no, no! È tutta l'ora! Che figura! Hai ragione! La spazzatura di un pesce è il tesoro di una sirena! Ho solo bisogno di questa busta e... How you like that? You go, you like that! Ti faccio vedere io, uno migliore! Oh, no! Oh, no! Che cosa? Come hai fatto? Non preoccuparti, Savvy! Non preoccuparti, ti insegnerò io! Oh, perché è sempre così gentile con me? Oh! Wow, Britney! Stai benissimo! Oh, sul serio! A proposito, grazie per avermi aiutato! Un regalo da Mermaid Beauty? Wow! Che spettacolo! Grazie per il vestito! Ehm... Verresti con me alla festa? Sì! Oh, Pete, tu sì! Che sai come sorprendere una ragazza! Figo! Ci vediamo alla festa! Ci vediamo! Oh! Sarò la ragazza più bella della scuola! Oh, bel vestito, Britney! Ne voglio uno anche io! Saremo gemelle! Sarà arrivata! Eccomi! Mi sento come una vera principessa! Come vi batte il cuore? Ehi, fratello, andiamo! Non andrò a prendere da bere! Ecco, prendi! Scusa, devo andare! Ho un appuntamento! Ecco che vado! Ehi, Britney! Pete! Savvy? Pete! Savvy! Oh! Come hai potuto? No! Oh no! Sono di nuovo brutta! Oh! Oh, sei terribile! Ma io voglio essere bella come te! Allora, prendi la mia collana di bellezza! Ne hai bisogno più tu di me! Sono carina adesso! Sarò super popolare! Scusa, Savvy! Io amo Britney! Andiamo! Aspetta, aspetta! Sono bella! Se n'è andato! Ehi, vuoi fare una rotata? Sì! Andiamo! Oh sì! Beh, non è un grosso problema! Davvero! Cosa fa? Davvero! Lui è il mio bagnino! Ehi, Cristo! Dunque... Perfetto! Ora dobbiamo aspettare che tutti se ne vadano! Opsi! Grazie per le scarpe da ginnastica! Grazie mille! Ehi, ma io non sono mai prestati! Posso averla? Ma... Ma... Ho finito con la spazzola! Ecco a te! Grazie! Io! La mia bella maglietta! È nuovissima! È nuova! Posso provarla! È già sporca! Smettila di prendere le mie cose! Non la sopporto più! Dov'è il mio diario? Che cosa? Che cosa? Cos'è questo? Amore! Anche a te piace? Ti sei sposata? Come hai potuto? Luna, fermati! Non posso crederci! Luna! Prendi questa! Che cosa hai fatto? Questo è tutto! Dividiamo la stanza a metà! Sì! Ehi, che cosa stai facendo? Ora avrò il mio spazio! Senza di te! Non verrai mai più nella mia stanza! Oh, le mie gambe! Ehi, fatto! Iniziamo a decorare! Cosa stai facendo? Oh, cosa stai facendo? Lasciami in pace! Facciamolo! Perfetto! Perfetto! Oh, come hai fatto? Vai fuori di qui! Vai nella tua stanza! Cosa stai confinando? Vedrai! Ora esci dalla mia stanza! E non tornare mai più! Non venire nella mia stanza! Ho un appuntamento con Chris! Oh, un appuntamento con Chris! Sto chiamando per prima! Ciao! Ehi, Chris! Vuoi venire qui? Sì, sì, sì! Vengo alle 18! Ah, va bene! Ti aspetto! La mia stanza sarà migliore! Scoprirò il tuo segreto! Oh, cos'è quello? Ombretto blu! Facciamo qualcosa! Oh, l'amore della mia vita! È così carino! Cos'è questo rumore? Quanto mancherà ancora! Ho ancora tempo per finire! Cosa sta facendo? Oh, cos'è questo? Oh, che cosa? È guerra sia! Oh, guarda chi non può entrare nella mia stanza! Oh, potrà fare una cosa simile! Ci penso io! Scopriamo cosa sta facendo! Vuole una stanza migliore, ma io non glielo permetterò! Quanto è brava! Quanta roba! Dove ho preso tutto? Esci dalla mia stanza! Niente acqua di mare per te! Ti prenderò! Niente luci per te! Un po' di pace! Che cosa sta succedendo? Non riesco a vedere! Luna! Non verrà mai nella mia stanza! Decoriamola! Diamoci dentro! Mi piace! Serve qualcos'altro! Perfetto! Sto facendo tutto per te! Non posso credere che sia pronta! Sistemiamola! Dovrebbe andare! Spero di non aver perso molto tempo! Due ore prima dell'appuntamento! La mia stanza è un disastro! È ora di buttare via la spazzatura! Ancora uno! Te ne pentirai! Ti faccio vedere io! Mi devo fare un bel bagno! Devo ripulirmi! È buona questa crema! Ma come si chiama? Saffi! Devo fare qualcosa! Devo fare qualcosa! Non funziona! Dov'è? Devo fare qualcosa! Cosa posso usare? È troppo pericolosa! Forse queste! Qualcuno mi aiuti? Smettila di essere così rumorosa! Ehi! Il mio schizzo è pronto! Oh mio! È così bello! Oh! Perfetto! Mancano dieci minuti! Blu perché si abbina alla mia personalità! E le perle! E le labbra rosse, ovviamente! E le labbra rosse, ovviamente! Chris le adorerà! E il tocco finale! Occidenti, è qui! Un attimo! Sono pronta! Arrivo! Perché ci mettono così tanto? Ehi, Chris! Ehi, Savi! Dov'è Luna? Chi? Oh, è malata! Scusami! Ciao, Chris! Andiamo! Vieni, vieni, vieni! Entra! Dov'è andata, Savi? Oh, no! Vieni nella mia stanza! No, nella mia! Mia! La mia! No, la mia! Lui è mio! Calmatevi! Divertiamoci tutti insieme! Ok! Wow! Molto comodo! Oh, saremo più a nostro agio nella mia stanza! No! La mia stanza! Ragazzi, mi litigate! Ho portato del cibo! Che cosa? Buonissimo, eh? Sì? Sì? Come osi! Come hai potuto! Aspetta, cosa? Non venire mai più in questa casa! Sorelle per sempre! Dai, apri gli occhi! Svegliati! Sei vivo! Cosa? Meno male! Mi hai salvato! Sei così... Speciale! Grazie! Io ve ne vado! Aspetta, non andare! No! Perché? Perché è scappato? Oh! No, beh, ti credo! Devo fare qualcosa! La mia spazzola per capelli! Forza! Oh! Fuori dal mare! Fuori dal mare! Vorrei essere... Parte di quel mondo! Oh! Uno scrigno! Eh? Com'è tutta questa roba? Eh, vediamo! Oh, un mucchio di piccoli cerchi! Oh! Oh! Posso metterli sui brufoli! Gli umani hanno così tanti gadget e aggeggi! Bene! Proviamo questo! Devo coprire tutto! Non funzionano! Au! Che dolore! Io! Oh! Ha funzionato! Bene! Li toglierò tutti! Io! Oh, che schifo! Santo cielo! Liscio come una perla! Eh? Cos'è questo qui? Togliamo... No! Ah? Io! Ma che schifo! Togliti dalla mia faccia! Eh? Un verme? Che schifo! Sarà un amico di Ursula! Eh? Oh no! Devo fare qualcosa! Diamo un'occhiata nello scrigno! Eh? Oh! Che cosa orribile! Eh? Chissà come funziona! Oh! Va bene! Credo di aver capito! Ci verserò sopra del latte di cocco! Forse funzionerà! Grande! Per favore funziona! Mi stanno venendo le vertigini! Ha funzionato! Aspetta un attimo! Oh! Degli avanzi della colazione! Ehi! Forse posso usarli! E se... No! Cos'è questo? Sembra spaventoso! Ma forse funzionerà! Eh? Oh! Perché per essere belle bisogna soffrire! Ma per il mio principe ne vale la pena! Così liscia! Ma qui non è affatto liscia! Forza coso magico! Funziona! Oh! Sono rossa! Oh! Ho un'idea! Ho sentito degli umani parlare degli slime! È così che fanno giusto! Grazie per avermi aiutato, piccola amica! Che solletico! Sì! Missione compiuta! Oh! Oh! Mi sprude la testa! Forse dovrei lavarmi i capelli! Oh! Che cosa? Oh! Come farò adesso? Oh! Ho un'idea! Sembra proprio che alla fine mi devo lavare i capelli! Ma prima prendiamo delle alghe! Scusa, piccola rana! Ho visto il mio amico Tritone farlo ai suoi capelli! Quindi voglio provarci anche io! Penso che facesse così! Credo che questo sia l'unico gancio innocuo che io conosca! Ora devo tirare! Sì! Bene! Ma ho molta strada ancora da fare! Non odio aspettare! Fatto! Sì! Questo è quello che io chiamo un lavoro ben fatto! È ora di truccarmi! Devo essere perfetta! Oh! Pittura per il viso! Ma voglio sembrare unica! Proprio come ha detto il mio principe! Della rete! Della vernice! Il gioco è fatto! Oh! Così bella ed elegante! Wow! Non vedo l'ora di baciare il mio principe! Ma... Cosa ho per le labbra? Oh! Questa gegge è così strano! Spero di non assomigliare a un pesce! Oh mio ammorso! Lascia andare le mie labbra! Aia! Oh Sebastian! Non pensavo fossi tu! Grazie per l'aiuto! Fammi togliere questa rete! La collana della mamma porta fortuna! Dove sei mio principe? Sono pronta! Cialalalala baciala! Wow! Cosa ti è successo? Sei così bella! Ehi! Ah! Il mio solo ed unico! Sono pronta per il mio bacio! Ok! Io devo andare! Ci vediamo! Aspetta! Cosa? Perché? Facciamo scorrere un po' di sangue su di te! Bella signorina! E anche tu dolce gattina! Vuoi anche tu pasticcino? Ma certo! E l'intero castello è bagnato da una pioggia di sangue! Ah! L'adoro! Sì! Sarà tutto appiccicoso e fantastico! Oh! A proposito! Ecco la tua nuova tata! Sangue? Ciao! È solo marmellata di frago! Ecco! La lista delle cose da fare! Ok! Buona fortuna! Ciao! Accetto la sfida! Cosa abbiamo qui? Nessun morso! Ehi! Guardami negli occhi! Guardarla negli occhi! Oh! Funziona! Andiamo! Non riesco a raggiungere il collo! Va bene! C'è sempre un modo! Sto arrivando! Ora che ti ho capito, fammi assaggiare il tuo sangue! Che succede? Oh no! Oh no! Tata! Cosa stai facendo? Upsi! Scusami! Sto venendo da te, Ellie! Che paura! Ho la mia pancia brontola! Voglio mangiare! Ho fame! Ecco qua! Non le piace! Oh! Ma certo! Ok! Allora darò una nuova veste ai broccoli! Andiamo! I frullati sembrano buoni, vero? Anche con un piccolo travestimento! Le bambine adorano questo colore! E ora frulliamo! Ecco cosa volevo! Il colore è perfetto! Eccolo! Frullate di broccoli rosa! La tazza perfetta! Oh! Che bella consistenza! Frullati? Sembra fresco e appetitoso! Ok! Assaggia! Non saprei! Vedati! Cos'hai messo qui, Tata? Ok! L'assaggio! Per favore! Fa che gli piaccia! Per favore! Buonissimo trappo! Davvero! Oddio! Ecco che arriva il grande momento! Uno più grande! Oh! Non ci siamo proprio! No no! Tata! Eccomi! Che c'è? Tata! Aiutami a pulire, per favore! Eh! Conosco un trucchetto! Questo bidet è così pratico! Lascialo qui! E guarda! Deve solo pompare! Wow! Facile! Dammi qui! Proviamo! Wow! Bellissimo! Troppo bello! Aspetta! Ancora una volta! Deve bere bevande salutari! Ecco il tuo latte, tesoro! Puzza di mucca! No! Oh! Conosco un trucco! Usa questo! Oh! Sembra così bello, Tata! Iniettalo nel braccio! Così! Guarda un po'! Wow! Fantastico! Per soddisfare il tuo appetito! Di sicuro! Vieni da me il sangue! Aspetta un attimo! Non ancora! Ti serve un bicchiere! Ma mi prendi in giro? È così che si beve correttamente! Le buone maniere sono importanti, ragazzi! Sembra allettante anche a prendersi il vetro! Ecco a te! Oh! Finalmente! Sembra buonissimo! Di più, per favore! Ok! Mi piace questo! Ti prego da me di più, Tata! Sì! Oh no! No! Sono troppo stanca! Oh! Non preoccuparti, Tata! Perrò soltanto un po' di succo di sonda! Un zucco! Ho bisogno di sdraiarti! Mmm! Gostoso cioccolato! Laviamo i denti! Cosa? No! Oh beh! Ho un'idea! Oh, tesoro! Guarda cosa ho trovato! Che cos'è? Wow! Una bocca gigante! Alleniamoci a lavarci i denti! Che schifo! Vai via, ragno! Anche tu! Ciao, ciao! Prova con i tuoi denti! Ok! Così? Esattamente! Va bene, Tata! Ciao, Tata! Non è divertente! È divertente questo! Davvero le fai questo? Oh, scusa! Mi lavo i denti! Giocare troppo non va bene per i bambini! Qui dice niente dispositivi elettronici! Mi spiace! È così! Oh? Oh, non puoi fermarmi! Bambini! Ridammi il mio telefono! Oh, sì! Ora torniamo al gioco! Mi sembra giusto! Ma forse questo funzionerà! Conosco questo odore! Ehi, ragazzina! Dammi il telefono! Mamma mia! Quanto puzzo ti ha riprendito! Ottimo! Per un po' di tempo resterà lontana dal telefono! Non è giusto! Molto meglio! Oh, non mi importa! Tata! Boo! Tata! Oh, non sei divertente! Ehi, Tata! Oh! Woohoo! Tata! C'è qualcuno qui? Oh, che c'è? Oddio! Oddio! Io mi annoio! Bene! Giochiamo a nascondino! Uno! Sì! Due! Ok, mi nasconderò qui! Forse no! Quattro! Cinque! Oh, ci siamo! Sei! Oh, no! Sette! Ottima idea! Nove! Ma è troppo facile! Non è abbastanza questo! Ma certo! Perfetto! Non mi troverà mai qui! Aspetta un attimo! Perché tanto silenzio? Qualcosa non quadra! Oh! Tata! Eh, ciao! Dai, che strano! Boo! Tata! Ehi! Oh! Toc, toc! Sei qui, Tata? Che fastidio! Oh! Beh, scusa! Oh, cavolo! Notte, notte! È l'ora della favola della buonanotte! Leggiamo questo! C'era una volta... Una bambina! Ah, che noia! Oh, ho un'idea! Eh, è strano, ma... Va bene! Nah! Questa volta faremo a modo mio! C'era una volta una notte! Due pipistrelli volavano in cerca di sangue! Ma poi si sono ritrovati a combattere nel bel mezzo del nulla! Aspetta! È di nuovo tranquillo qui! Si è addormentata! È la mia occasione! È già nel sonno profondo! È ora di sangue fresco per me! Ah! Abbracciami, Tata! Che faccio adesso? Ma certo! Pronti? Tata! Che è successo? Ehi! Le mie labbra sono un disastro! Che male! Ah! Oh no! Aiutami, Tata! Tapp! Ti ho fatto uno scherzo! Davvero? Oh! Wii! Gira, gira! Vortice! Oh! Ho qualcosa per te! Ecco qua! Un regalino per te! Davvero? Wow! Ti piace fresco, vero? Preparati al morso, Tata! Cosa? Com'è andata? È uno scherzo! Questa era buona! Ti voglio bene, Tata! Anch'io! Facciamoci un selfie! Ok! Sai? Mi piacerebbe essere un vampiro, in realtà! Davvero? È un'idea che mi piace molto! È fantastico! Stai ferma, sicura, eh? Sì! TikTok! Azione! Sarà virale! Ehi, TikTok! Hai mai visto un vampiro prima d'ora? Basta! E pubblichiamo! E adesso... L'abbigliamento! Ah? Non proprio! Cosa? No! Ultimo tentativo! Bene! Un'altra cosa! Voglio rendere questo outfit più fico! È un po' datato! Voglio sembrare una bella vampira! Non sono una sfigata! E infine la cintura! Manca qualcosa! Ecco, ci sono! Sì! Tu mi servi! E via con la trasformazione! Wow! Questa mantella è come la ciliegina sulla torta! Sono pronta! È ora dello spettacolo, ragazzi! La scuola è così noiosa! Ciao! Ehi! Che si dice? Wow! Ehi, tu! Assomiglio a un vampiro? Vuoi diventarlo? Sì! Ok! Basta! Ho un'idea migliore! Cosa? Ciao! Cosa è successo? Au! Era il mio dito preferito! Sento profumo di sangue! Che la caccia abbia inizio! Non sei reale! Sto dormendo! No, è vero! Per favore, non prosciugarmi! Ti serve un cerozzo, mio caro! Fai attenzione la prossima volta! Ok, grazie! Ehi! Dammelo subito! Cosa fai? È mio! Ah, stupido nerd! Oh, penso di essermi innamorato! Emily! Emily! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Qualcuno mi aiuti! Oh, oh, oh! Qualcuno è nei guai! Aspetta! Ehi, ti prenderò io! Catti tra le mie braccia! Oh, oh, oh! Oh, ma dai! Ci sta mettendo così tanto! Oh, oh, oh! Allora, dov'è? Oh, oh, oh! Fammi fare una foto! Alvami! Ehi, aspetta! Non cadere ancora! Sono qui! Preso! Ma sei bene? Sì, grazie! Eh, prego! Oh! Mi ha salvato la vita! Dovrei dire che l'amo! È qui! Ok, magari la prossima volta! Ok! I made you a look! È stupenda! Chi è quel tipo? È bellissima! Guarda cos'ho! Sono sicuro che ti piacerà! È A positivo! Grazie, tesoro! Strano! Devo controllare! Oh, non sarò mai alla sua altezza! Occhio a dove metti i piedi! Scusa! Stupido tipo! Che diavolo! Non mi piace quello! Ciao! Cosa stai bevendo? Cosa? Calmati! È solo succo di pomodoro! Succo? Beh, sai, pensavo... Oh, non importa! Ascia perdere! La tua barna è così fredda! Devo andare! Devo seguirla! Modalità stalker attivata! Cosa sta facendo? È ora di rinfrescarsi! Dai, apriti! Ops! Spero che nessuno mi abbia vista! Oh, com'è forte! Controlliamo! Non per niente mi chiamano invisibile! Sto benissimo, direi! Non vedo imperfezioni! Cosa? Oh, un cespuglio parlante! Non importa! Non c'è nessuno! Oh, ci è mancato poco! Oh! Aspetta un secondo! Emily nasconde qualcosa! E devo scoprire che cos'è! Diamoci dentro, Archie Holmes! Vediamo! La verità è là fuori! Emily è più veloce di Flash! Ha degli incredibili occhi rossi! Il suo cocktail d'autore è il sangue! È forte come Hulk! Le sue mani sono fredde come il ghiaccio! Come fa a essere tutto collegato? Pensiamo! Forza deduzione! Non deludermi! X è uguale a 2! Lei è... un vampiro! Oh! Com'è possibile? Devo fare delle ricerche! Google anche no! Preferisco i libri! Oh! Ecco cosa stavo cercando! Spero che la verità sia qui! Non può essere! Emily mi ha preso al volo! Stai bene! Ha rotto la porta dell'armadietto! Non è la succo di pomodoro! Ora so tutto! Mi starò risolto! Dovrei lavorare sulla mia coordinazione, santo cielo! Bene, bene! Cosa abbiamo qui? No, per favore, per favore! Non sei così corraggio di testa! Lassalo stare! Ma sono tutti pazzi in questa scuola? Lassalo stare! Trova qui! Dove sei? Le ragazze sono i vampiri peggiori! Ti faccio vedere di che pasta sono fatte le ragazze! Che fai? Non sono affari tuoi! Per favore, non farmi del male! Ehi, nerd! Stai bene? Sì! Bene! Ciao, allora! Oh, Emily! Come attiro la sua attenzione! Ci sono! Voglio impressionarla! E so da dove incominciare! Devo assomigliare a Edward Cullen! Proviamo questo! Non ci siamo! Cambiamolo! Proviamo qualcos'altro! Voglio sembrare più un e-boy! La capiccia nera mi starà bene! La moda è la mia passione! Ups! Mi stanno un po' stretti! Pochi secondi e i gis sono a posto! Manca un bel giro collo! E guarda che braccialetto! Wow! Sono il signore degli anelli! Passo finale! Oh! Un look un po' dark! Ora sono pronto! Ecco che arrivo! Un vero vampiro! Attenta il collo, ragazze! Ciao, dolcezza! Ciao! Sei così figo! Ehi! Sembro un vampiro! Vuoi esserlo? Sì! Come desideri, tesoro! Ho un'idea migliore! Ah! Ah! Il mio potere! Lo sto perdendo! Grazie! Ciao! Sono di nuovo un essere umano! Oh! La mia testa! Oh!